Benvenuti sul canale. La nuova serie di Demet Ozemir. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi ci sono notizie positive per i sostenitori dell'attrice protagonista della serie televisiva Jai Dreamer, Demet Ozemir, che interpreterà il ruolo principale in una nuova serie intitolata Adim Farak. La serie è un adattamento della versione originale argentina La Muchacha Quellimpia e sembra essere molto promettente. Tuttavia ci sono state delle controversie riguardo al ruolo principale. Visto un principio doveva essere interpretato dall'attrice Asli Enver al fianco dell'attore turco Enjin Akurek. A causa della gravidanza di Asli il ruolo principale è stato in seguito assegnato all'attrice Demet, ma ci sono state accuse da parte degli utenti dei social media che sostengono che Demet abbia rivelato la gravidanza di Asli per mantenere il suo ruolo nella serie. Spero che questa piccola chicca ti sia piaciuta e non dimenticare di mettere un like e di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui fatti e sulla vita dei vostri attori e attrici preferiti. Ci vediamo al prossimo video, ma iscriviti al canale!